Ricordo un discorso di un Presidente della Repubblica, Oscar Scalfaro, nel 1993, quando fu chiamato in causa per fondi neri, lui al gioco al massacro rispose con un io non ci sto. Sono parva materia rispetto a un Presidente della Repubblica, per cui il mio io non ci sto di questa sera. Lo grido sommessamente e con tutto il rispetto per le massime autorità dello Stato a tutti coloro che oggi sui social mi tirano in ballo, ritenendo che siamo mandanti morali di quanto accaduto a Frosidone. A me sembra davvero un ben strano Paese, quello in cui il diritto di critica non sia più possibile esercitarlo solo perché si pensa che si armi la mano dei facili onorosi. Non è possibile pensare che poiché il clima è pesante attorno a questa squadra, a questa società e a questo Presidente, un clima pesante che abbiamo sempre denunciato e sempre combattuto, abbiamo sempre scelto da che parte stare rispetto a coloro che hanno vilmente, volgarmente attaccato questa società che da tanti anni ci sta dando un calcio ad altissimo livello. Sol perché ho ritenuto di dover porre all'attenzione alcuni concetti critici, rilievi critici a un allenatore titolatissimo e nel quale crediamo profondamente che possa portare qualcosa di importante alla storia del Napoli, questo non mi associa minimamente a fattacci tipo la maglia buttata indietro a Kayakon, al Meritiamo di Pio, agli siscioni apparsi a due passi dalla questura, eccetera eccetera. Il diritto di critica, cari signori è sacro, in una democrazia non può essere barattato neanche per dire stai buono perché il clima è già pesante, io non sto buono per niente e quello che ho da dire lo dico liberamente, non volendo essere tirato per la giacchetta da nessuno perché non appartengo a nessun carro, non salgo in oscendo, sono anche pesante, farei fatica. Non c'è un carro, solo le menti povere possono pensare che le persone si possano incasellare, io sono contro tutti coloro che reputano fallimentare questa stagione, l'ho detto chiaramente, non si può non riconoscere cosa sia la storia e la nostra storia è una storia povera, orgogliosamente povera. Noi solo sette volte siamo arrivati secondi in questo campionato, solo quattro volte abbiamo raggiunto una semifinale di una competizione europea, voler disconoscere ciò vuol dire disconoscere se stessi e la propria storia, cosa che non farò mai, non mi apparterrà mai, io non ho mai parlato di annata catastrofica o fallimentare, anzi ho combattuto contro tutti coloro che dicono è un fallimento è una catastrofe. Ma questo non significa dire che va tutto bene, questo non significa non vedere quello che abbiamo sotto gli occhi e allora io vi faccio solo delle domande, le pongo a Carlo Ancelotti per il quale provo grandissimo rispetto e stima. Perché siamo a meno 18 dalla prima in classifica che è il peggior risultato della storia del campionato italiano a 20 squadre? Perché siamo a meno 14 rispetto all'anno scorso? Non sto citando Stats, il portale delle statistiche su cui c'è stata baruffa tra lui e i giornalisti, dove ognuno è interpretato alla sua maniera, io sto dando dati inconfutabili. Meno 18, peggiore risultato della storia di una seconda di Serie A. Meno 14 rispetto all'anno scorso, è la peggiore performance di una squadra di Serie A di quest'anno. Ma soprattutto meno 9 punti rispetto al giorno d'andata che è la peggiore performance nel giorno di ritorno di una squadra di Serie A. Abbiamo meno 7 gol fatti rispetto all'anno scorso, più 7 gol subiti rispetto all'anno scorso. Abbiamo subito l'anno scorso 221 tiri in porta, quest'anno 289. E abbiamo il peggior caro di affluenza del pubblico. È stato il Napoli-Juve con il più basso numero di spettatori della storia degli ultimi 15 anni. Ed abbiamo avuto una media di 20.000 persone allo stadio per partite tipo Napoli-Lazio, Napoli-Atalanta, eccetera, eccetera. C'è disaffezione. Ci domandiamo perché il Napoli arretra nella competitività rispetto a quella raggiunta nelle passate stagioni. Questo vorrei io chiedere a Carlo Ancelotti. Ma soprattutto perché arretra rispetto a se stesso, che lui stesso riconosce che il Napoli visto tra settembre, novembre e inizio dicembre era un Napoli che gli faceva molto sperare e che ha visto delle debolezze in un Napoli da gennaio ad aprile su cui lavorare e correggere. Parole sue. Ma quando parla di calo di attenzione, di concentrazione, di motivazione, chiama in causa se stesso. A me non interessa quanto guadagna. Guadagna molto, ma è giusto che sia così per il palmares che ha e per l'uomo che è. Non sono un moralista di quelli che dicono ah quanti soldi nel calcio. Il calcio è spettacolo e chi ha titoli e attrae e attrattivo ha diritto ai soldi. Non mi fa nessuna specie che lui porti a casa un bel po' di soldi. Mi fa specie però che è un allenatore che viene dicendo lui, non sono venuto a pezzinare le bambole, dicendo lui che sarebbe dovuto essere lui il valore aggiunto a una squadra che ha delle conoscenze, alla fine tutto questo non lo ha realizzato. Ha fatto sicuramente bene, ma non benissimo. E quindi io ribadisco che non sono contento del fatto che il Napoli non si sia qualificato con l'Arsenal, non se la sia giocata. Un Arsenal che è franato letteralmente dopo Napoli prendendo tre sconfitte di seguito, tre gol a partita per tre partite di seguito. E il Napoli è stato l'unico a non segnare. Tutto questo, Ancelotti, lo dovrebbe spiegare. Perché partendo da questo, forse per l'anno prossimo potremo avere un Napoli di nuovo competitivo. Grazie, ho finito.